Manco a pagarlo a peso d'oro, in determinate ore si trova un parcheggio dopo aver girato come una trottola. Tutto il mondo e paese, anche a Chieti, la caccia al tesoro del posteggio è partecipata. Buone notizie arrivano sul fronte di opere strategiche, come le definiscono il sindaco Ferrara e l'assessore Rispoli. È stata infatti affidata la progettazione esecutiva per la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Carafa allo Scalo e quello multipiano di via Ciampoli. 12,3 milioni di euro per realizzare queste infrastrutture che renderanno più accessibile l'arrivo nel capoluogo teatino. Anticipazioni da parte della responsabile del procedimento, l'ingegner Luca Franceschini. Quindi abbiamo individuato la società di ingegneria che dovrà rimettere a stretto giro il progetto definitivo e esecutivo di questa importante opera strategica per la città. Ci saranno dei parcheggi interrati nella zona di Chietiscalo a piazza Carafa e invece ci saranno dei parcheggi sopraelevati lungo via Ciampoli che è un'arteria principale di comunicazione della città che connette la città al terminal bus dove si sta procedendo anche lì con un'altra opera pubblica. Ci sarà anche un lavoro di riqualificazione delle zone? Sì, le zone verranno riqualificate, ci saranno opere di verde pubblico soprattutto nella zona dello scalo perché andranno a migliorare sia la vivibilità e sia la viabilità della zona interessata. Sui tempi non ci si può ancora sbilanciare ma prosegue Franceschini si farà di tutto affinché l'iter possa procedere velocemente. I tempi è prematuro, noi abbiamo stabilito nel bando di gara dei tempi molto stretti per quanto riguarda la consegna della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva. Ovviamente poi ci saranno tutti gli iter amministrativi con le conferenze dei servizi per arrivare all'approvazione definitiva del progetto. Sbilanciamoci. Mi auguro che il progetto possa essere ultimato e possa essere consegnato nei primi mesi, nei primi giorni di maggio.